Per violare il cavo occorreva un piano di una difficoltà estrema. Vale veramente poco, ma ce ne sono altre che hanno un valore molto più grande. Il titolo è Faccio quello che voglio. A livello vocale è una collaborazione con Emma Marrone, Neck e Albano. A livello video è una collaborazione con parecchi personaggi, ad alcuni rubo l'aspetto fisico e ne faccio uso, e altri invece che sono contestualizzati come personaggi nella storia. Purtroppo mi rivedete presto. Non prestissimo, perché comunque ho anche dei tempi abbastanza dilatati, però insomma... Un saluto a tutti i lettori di TV Suorise Canzoni.